Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di IcaroTG, guardiamo insieme quali sono le notizie principali di oggi. Bastoni, spranghe, molotov e fumogeni per un ride punitivo al centro ASD di Bellaria Monte, 31enne in prognosi riservata dopo un colpo alla testa, si ipotizza una faida tra tifoserie. Nuovo stadio Romeo Neri, l'iter prosegue, a fine novembre arriverà in Consiglio Comunale la dichiarazione di pubblico interesse dell'intervento. 308 mila passeggeri in dieci mesi per l'aeroporto di Rimini, già superato il 2023, si lavora per potenziare i collegamenti nel 2025, ma ancora nessun annuncio. Tutto pronto per la nuova edizione di Ecomondo, attesi da domani in fiera a Rimini 1600 brand, il ministro Picchetto Fratin al taglio del nastro. E allora apriamo con questa notizia di cronaca, un ride punitivo verso le 23.15 di sabato scorso nel circolo ricreativo ASD di Bellaria Monte. Un 31enne è stato preso a bastonate ed è ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri indagano nell'ambito della rivalità tra tifoserie. Vediamo. Prima il lancio di fumogeni, come a voler annunciare, l'ora arrivo, poi la devastazione a colpi di bastoni, spranghe, catene. Si sono vissuti minuti di terrore nel circolo ricreativo ASD di Bellaria Monte, dove una ventina di persone vestite quasi tutte di nero, col volto nascosto dietro cappucce e posta montagna, hanno fatto il ruttore nel locale distruggendo tavoli, sedie e arredi. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, già nelle mani dei carabinieri, mostrano la brutalità con cui il commando ha agito. La violenta aggressione si è prolungata per diversi minuti, nel corso dei quali uno dei clienti del circolo, un 31enne di Bellari Giamarina, ha subito un violento colpo alla testa che gli ha procurato una frattura cranica con conseguente emorragia. Necessario il suo trasferimento all'ospedale Bufalini di Cesena, dove resta ricoverato in prognosi riservata. L'uomo non è per fortuna in pericolo di vita e presto verrà ascoltato dagli investigatori dell'arma. Terminato il raid punitivo, i componenti del commando si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri hanno recuperato parti di bastoni di legno, una catena in metallo e il manico di un manganello. Si fa strada l'ipotesi dell'aggressione nell'ambito della rivalità tra tifoserie. Infatti il circolo ricreativo è un luogo di ritrovo abituale dei tifosi del Cesena Calcio, che però al momento della devastazione non erano presenti. Neppure il ferito risulta appartenente al tifo organizzato bianconero. L'assurda motivazione legata di siti sportivi emerge anche dalle dichiarazioni di condanna del sindaco di Bellarigia Marina, Filippo Giorgetti, che dice «La fede sportiva non contempla l'odio. La nostra è e vuole essere una comunità in cui non c'è e mai ci sarà tolleranza o indulgenza verso episodi come questo». L'amministrazione, inoltre, si è subito messa a disposizione degli investigatori, fornendo tutti i dati dei sistemi di targa e sistemi e videosorveglianza presenti in città, che possano essere utili a rintracciare i colpevoli. Cambiamo decisamente argomento. Il Consiglio Comunale di Rimini infatti tornerà a parlare del nuovo stadio Romeo Neri nell'ultima seduta di novembre o al massimo nella prima di dicembre. Il punto sul liter nel servizio. Sarà con ogni probabilità nell'ultima seduta di novembre, quella del 28, o al massimo in quella del 5 dicembre, che il Consiglio Comunale di Rimini tornerà a discutere del nuovo stadio Romeo Neri, attraverso la dichiarazione di pubblico interesse. Questo passaggio andrà a rafforzare il percorso condiviso verso un'opera da tempo attesa dalla città, oggi oggetto di una proposta di partenariato pubblico-privato avanzata dal raggruppamento temporaneo di imprese costituita da Aurora Immobiliare Rimini Football Club, presentata ai sensi della recente legge stadi. Il privato in parallelo sta lavorando all'avanzamento del progetto definitivo, sulla base delle condizioni e prescrizioni emerse dalla conferenza di servizi preliminare. La proposta di progetto prevede la realizzazione del nuovo stadio attraverso la ristrutturazione con demolizione dell'attuale impianto, andando ad aumentare la capienza fino ad oltre 12 mila posti tutti coperti. E' inoltre previsto il restauro conservativo della facciata monumentale ovest dello stadio, esempio di architettura italiana degli anni 30, tutelato quindi dalla competente soprintendenza. L'intervento vuole trasformare l'attuale Romeo Neri in un luogo dedicato allo sport, al tempo libero e al benessere fisico, in grado di essere utilizzato 7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno, grazie alla presenza di spazi sportivi multidisciplinari. Un impianto sportivo multifunzionale di nuova generazione, integrato nel tessuto urbano, adeguato sia ad ospitare la prima squadra di calcio cittadina, sia eventi sportivi e non. Si è svolta questa mattina a Rimini la cerimonia provinciale nel giorno dell'unità nazionale e delle forze armate. Alle 10 in piazza Cavour si sono radunate autorità civili e militari, forze armate e rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed arma. Dopo l'alza bandiera e la deposizione della corona dall'oro alla lapide commemorativa dei caduti di tutte le guerre, sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il corteo si è poi spostato in piazza Ferrari, dove è stata deposta una corona dall'oro ai piedi del monumento ai caduti. Infine, alle 10.45, nella vicina chiesa di San Francesco Saverio, è stata celebrata la Santa Messa. Crescono i passeggeri dell'aeroporto di Rimini, che nei primi dieci mesi dell'anno ha già ampiamente superato i dati dell'intero 2023. Lo rende noto la Società di Gestione dello Scalo. Si tratta però ancora di un'annata interlocutoria, in attesa di annunci ufficiali sul potenziamento dei collegamenti. 308.000 passeggeri in dieci mesi per l'aeroporto di Rimini, il 15% in più del 2023, che si chiuse con circa 280.000 complessivi. Escludendo il traffico russo e ucraino, evidenzia la Società di Gestione Airiminum, è il terzo risultato di tutti i tempi per lo scalo riminese. Le due destinazioni più gettonate sono anche le uniche annuali. Tirana con 53.000 passeggeri, Cagliari con 45.000. Ci sono poi Palermo, 41.000 passeggeri, Budapest e Caunas, 31.000, Vienna 24.000 e Londra 23.000. Il traffico da Palermo e Cagliari, spiega Airiminum, è fatto per quasi il 50% da passeggeri che vengono a Rimini per motivi leisure o business. Si conferma l'elevato tasso di riempimento dei voli, l'87%, uno dei più alti d'Italia. Buono l'andamento del mese di ottobre, l'ultimo della stagione estiva, che ha visto quasi 31.000 passeggeri con un incremento del 49% sullo scorso anno e con Palermo e Tirana in vetta con 5.500 passeggeri a testa. Ma se il bilancio 2024 si conferma, più o meno, in linea con le attese, le incognite riguardano il futuro. Tra novembre e marzo restano operativi dal Fellini appena due collegamenti di linea, Cagliari e Tirana, a fronte invece di un'attività fieristico congressuale in continua espansione. Da tempo si attendono annunci di nuove rotte a cui Airiminum sta lavorando, Regno Unito, Nord Europa e abitaliani come Roma o Milano. Potenziamenti necessari per raggiungere non solo i 400.000 passeggeri annunciati per il prossimo anno dall'amministratore delegato Corbucci, ma anche per dare seguito agli impegni economici che si sono assunti gli enti pubblici. Il Comune di Rimini, infatti, ha messo a bilancio 3 milioni l'anno fino al 2026 per la promozione turistica che hanno come destinatario specifico proprio l'aeroporto. Ci sono poi le risorse di marketing dei bandi indetti dalla regione. Nelle prossime settimane si potrebbe capire se il 2025 sarà un anno decisivo o l'ennesimo anno interlocutorio. Da domani scattano in provincia di Rimini le misure emergenziali a causa dello smog. Il prossimo anno ci sia un superamento dei valori limiti di PM10. Fino a mercoledì compreso saranno quindi in vigore le misure aggiuntive previste dal piano aria integrato regionale. Tra queste c'è lo stop alla circolazione per i veicoli diesel Euro 5 dalle 8.30 alle 19.30. Le misure emergenziali saranno revocate solo se il nuovo bollettino atteso per mercoledì evidenzierà un miglioramento delle previsioni. Intanto a Rimini è tutto pronto per Ecomondo che da domani a venerdì porta i grandi temi dell'economia circolare nei padiglioni della fiera. L'inaugurazione sarà alle 10.30 nella Hall Centrale. Presente anche il Ministro dell'Ambiente. Ultimi dettagli per gli allestimenti di Ecomondo pronto a tagliare il nastro della 27esima edizione. Con un record sarà la più grande manifestazione fieristica finora realizzata a Rimini grazie ai due nuovi padiglioni che hanno portato la superficie a 166.000 m2. All'inaugurazione sarà presente anche il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin. Protagonisti della Quattro Giorni e oltre 1.600 brand che fanno della sostenibilità il core del proprio business. Forte la caratterizzazione internazionale con operatori da oltre 100 paesi. Un'attenzione particolare sarà rivolta al continente africano in linea con il Piano Mattei del Governo e l'African Green Growth. Focus specifici saranno dedicati alla sfida del cambiamento climatico. Ecomondo sarà anche sede della 13esima edizione degli Stati Generali della Green Economy che proporranno analisi e indicazioni su decarbonizzazione, transizione energetica, circolarità con la presentazione della relazione che analizza le performance italiane su questi temi. Sono in programma oltre 220 tra seminari e workshop di cui 25 internazionali. E se dentro alla fiera è protagonista l'economia circolare, fuori negli spazi della città grazie al programma di Rimini Blue Lab c'è Ecomondo Off. Più di 20 appuntamenti fra incontri, laboratori, proiezioni, visite guidate e due mostre. Al Palazzo del Fulgore, ad esempio, con un'immersione multisensoriale a base di effetti sonori, video e fotografie, sarà possibile attraversare la tragedia della tempesta Vaia. Le passeggiate in centro storico a Rimini saranno dedicate alla scoperta della presenza dei corsi d'acqua dolce e del rapporto con il mare nelle varie epoche storiche. L'area del Marano, da anni, è al centro di uno scontro tra chi vorrebbe tutelarla e chi punta invece sulla possibilità di utilizzare l'area colonie per eventi di intrattenimento estivi. Di tutela del Corridoio del Marano se ne parla in questi giorni al Fuorisalone Workshop Progettuale Marano, organizzato dall'Associazione Basta Plastica in Mare. Come finalizzare l'area del Marano con le sue colonie? Se ne parla da anni cercando di trovare una soluzione per quella zona che si estende tra le terme di Rimini, la colonia bolognese e la ex colonia reggiana a Riccione. Nei giorni di lunedì e martedì si svolge la settima edizione di Fuorisalone 2024, la manifestazione per l'ecologia che ogni anno Basta Plastica in Mare organizza in concomitanza al Salone Ecomondo. E proprio in questi giorni è arrivata la notizia che il Comune di Riccione ha vinto un bando regionale per la conservazione e la tutela della biodiversità del Marano e nei prossimi mesi, come sottolinea l'assessore all'ambiente Cristian Andruccioli, si interverrà per definire un progetto di tutela e salvaguardia di quell'ecosistema importante per tutto il bacino territoriale. È il terminale di un corridoio ecologico importante che è il corridoio ecologico del fiume Marano e del fiume Melo. È un'area importante perché va protetta dal mare, il mare sta crescendo e quindi bisogna arrivare fino a 2,85 metri rispetto al livello medio del mare con le protezioni. Si tratta di un corridoio vero e proprio estremamente prezioso perché permette ai vari habitat di essere in collegamento tra loro e siccome la natura e l'ambiente sono fatti di interazioni, di mantenere delle interazioni positive e sane. Il turismo che insiste su quella zona, se la tutela di quell'area procederà e il ripristino diventerà sempre più visibile e concreto, potranno anche giovarsi di un'offerta turistica che porterà le persone ad andare in quel luogo per ammirare la bellezza e la varietà di tutte le forme di vita, piante o animali che esistono in una zona di quel tipo. Non si può continuare a fare come è stato fatto fino adesso. Faccio un esempio di cui stiamo parlando in molti. La beach arena non può essere su quest'area. La beach arena può essere da un'altra parte, anzi forse sarebbe meglio che non fosse sulla beach, sulla spiaggia, ma da un'altra parte. Le arena, i concerti si fanno negli stadi, si fanno nei palazzini dello sport, non in zone che hanno grande valore naturalistico. Ecco, bisogna cambiare registro, bisogna cambiare tasto. Non possiamo continuare a sfruttare il territorio e a uccidere, perché di questo si tratta, le specie animali protette come il frattino. Noi siamo arrivati in conclusione. Come sempre vi ricordo per tutti gli aggiornamenti in tempo reale il nostro sito newsrimini.it. Grazie di essere stati con noi e buon proseguimento con la programmazione di Icaro TV. Grazie a tutti.